Mentre stanno uscendo i primi risultati, volevo chiedere, secondo lei oggi si stabilirà un vincitore, è giusto quando si parla di libri parlare di vincitori e di sconfitti? Ah no, rispetto agli autori no, perché potrebbe essere sconfitto anche a riosto da Enzo Viaggi, il problema è che questo non è un premio degli autori ma degli editori, il premio Bancarella che è un premio più corrotto di questo è un premio dei librai e quindi della capacità che i librai hanno di indicare quello che è il libro che ha più potenziale di vendita o che è già più venduto, io addirittura lo vinsi tanti anni fa contro García Márquez, perché García Márquez non era presente e io ero il giovane più promettente, per il mercato, infatti il libro vendette 250.000 copie, viceversa lo strega è effettivamente un premio politico perché sono i rapporti di potere fra gli editori e la grande giuria che è fatta non di persone sconosciute e puri lettori ma di persone che appartengono a delle condizioni sociali che sono legate a dei poteri, infatti vota anche il ministro, il quale essendo un autore Bonpiani è probabile che voti l'autore Bonpiani, ma non c'è nulla di male, se ci fosse un presidente dell'Enel che ha pubblicato un libro con Einaudi voterebbe Einaudi, quindi la rete dei rapporti fra grandi lettori tutti conosciuti, io sono uno dei pochi personaggi famosi che non sono nello strega, ne sono contento perché sarei corruttibilissimo, io voterei solo i libri di mia sorella, quindi non avrei alternativa, essendo un autore Bonpiani ed essendo lei la Bonpiani. Grazie, buona serata, grazie.